Cari amici dei gittanti gioiosi vicini e lontani, oggi è sabato 26 giugno, sono le ore 11.50 e vi facciamo vedere il panorama dal bivacco Zamboni che è posto sul sentiero 101 nel tratto che va da Cassa Marco a San Simone. Molto ben tenuto il bivacco Zamboni che vedete, bisogna vedere anche dentro, ci siamo entrati, è tutto a posto, nessun segno di vandalismo. Qui si può scendere, vedete, al rifugio Balicco che vi facciamo vedere laggiù, dove non possiamo mangiare perché è già tutto prenotato per due turni. Incredibile, veramente incredibile e non è neanche una giornata bella perché vedete il panorama, il cocuzzo là in cima e il cavallo o il pegherolo, chi lo sa, forse il cavallo. E poi qui ci sono le montagne che chiudono questa bellissima vallata. Ecco, adesso andiamo a vedere bene il rifugio com'è. è veramente uno spettacolo che è posto a 2.007 metri in una zona estremamente panoramica, estremamente panoramica. Noi proviamo ad entrare, vediamo che cosa succede. Ovviamente è ineggibile per via del Covid, però per fortuna hanno avuto il buon gusto di lasciarlo aperto per eventuali emergenze. Si vedrà ben poco, ma abbiamo verificato che è tutto tenuto in perfette condizioni. Molto, molto bene. Questo fa onore al CAI, che credo sia quello dell'Alta Valle Brembana. Molto bene, molto bene, molto bello. Molto tutto. L'unica cosa non molto adeguata purtroppo è il cielo. Perché ci aspettavamo un sole splendente e invece guardate che nuvole che ci sono. Cari amici, agitanti, gioiosi, noi vi salutiamo e vi auguriamo ogni bene. Allegger, allegger, che noi siamo sempre qui. Ciao! Ciao!